24 ore di lavoro intenso per le forze dell'ordine nel Cremonese, nel Cremasco. I carabinieri della Compagnia di Cremona, nella tarda serata di ieri, hanno trovato a Breda dei Bugni, Castelverde, una colonnina Bancomat abbandonata su terreno agricolo. È la stessa che era stata portata via da Cremonafieri lo scorso 13 dicembre, di proprietà della Popolare di Sondrio. Si comincia a far luce su un altro furto a un Bancomat, quello di Banca Intesa San Paolo, a Sorresina. Un passante ha notato una lancia delta abbandonata in un canale, ai margini di un campo, alla periferia di Annicco. I carabinieri hanno accertato che l'auto è stata rubata a Milano, per essere usata dai malviventi, che hanno fatto il colpo al Bancomat di Sorresina, facendolo esplodere nella notte tra giovedì e venerdì. Ancora a Sorresina, un disoccupato 51enne, è stato denunciato a piede libero, con divieto di avvicinamento alla sua famiglia, emesso dal GIP Pierpaolo Beluzzi del Tribunale di Cremona, su richiesta dei carabinieri. L'uomo nel settembre scorso, probabilmente a causa delle dipendenze di cui soffre, si è reso responsabile di atti persecutori, minacce e vessazioni nei confronti di sua madre, 83 anni, della sorella 58enne e della figlia di 16 anni. L'anziana signora è stata infatti ricoverata dal 1 di settembre all'8 novembre al polo sanitario di Sorresina e poi trasferita presso una cooperativa sociale in provincia di Cremona. Dall'8 novembre al 29 dicembre, l'uomo ha preso di mira la figlia 16enne, portatrice di handicap, con minacce, ingiurie, molesti e danneggiamenti. A fine dicembre i militari dell'arma sono intervenuti più volte per porre fine alle violenze. Sono stati invece i carabinieri della compagnia di Crema a denunciare per ricettazione un operaio 22enne di Bagnolo Cremasco, che durante un controllo stradale è risultato in possesso di ben 122 luci da labbra, che portavano in uno zainetto e era il magazziniero di una ditta di cosmetici. A casa sua sono state trovate centinaia di confezioni di cosmetici per un valore di circa 10.000 euro, che aveva portato via approfittando dell'orario di chiusura. Si tratta di cosmetici ancora da mettere in vendita, dunque di valore di mercato ancora superiore. La ditta, che non si raccorta dei furti, lo ha subito licenziato. Infine a Crema gli agenti del commissariato di polizia hanno arrestato un giovane nordafricano di 25 anni. È lui l'autore dello scippo di martedì in piazza Garibaldi. Gli agenti lo hanno sorpreso all'interno dell'ex ferriera, fabbrica dismessa da molti anni, vicino al punto in cui è stata trovata la borsetta della ragazza. Il complice dello scippo, che faceva il palo, è invece fuggito. Il nordafricano in carcere a Cremona l'accusa è rapina, poiché ha causato violenza alla ragazza, colpita alla testa senza conseguenze.